Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video Io sono l'Oraggio07 e oggi giocheremo delle partite con Brock Come si chiama la team? Brock Vecchia Scuola Sì sì Poi manca solo Corvo nei leggendari C'è un brawler mitico qua, vabbè Vediamo che ho nelle missioni, usciranno tra 34 minuti Perché sono le 9.25 Vabbè, andiamo Raga Questa skin è abbastanza rara Forse te la danno gratis Nooo La gattina ti è un proprio blissimo Ragazzi alcuni Nooo Grazie a tutti Ma Ma che senso ha questa partita singola? Un po' ciò Ma il clima è arrabbiato Nooo Ma stiamo tutti in tre che Raga Un po' ciò qua mi chillerebbe Ah Vabbè Poi noi ci siamo chillati Vabbè Vabbè non fa niente Comunque Comunque Il video lo chiamerò Partite Con Brock Vecchia Scuola No Eh Vecchia scuola Se noi facciamo team Come prima come quel pocio Però Poi lui si era arrabbiato E mi ha ucciso Eh ragazzi Poi farò dei video Molto divertenti Su questo canale Quinto Quinto Sesto posto Non lo so Quinto Proviamolo in footbrawl Non voglio avere tutti i brocchi in footbrawl Raga Non mi dire Abbiamo capito Quelli là Che sono i brocchi Hanno di sicuro Questa schiena Aiutatemi Colto rispetto a brocchi Decisamente più forte Ma La partita è Ma dai Uffa Caraga Andiamo raga Quando voi non mi sentite Vuol dire che sono molto concentrato Però in questa partita Stiamo andando Abbastanza maluccio Perché Loro ci stanno molto Ma come sei felice Dai Muori tu Andiamo raga Andiamo raga Blessudes Cavolo fai broc E abbiamo perso Proviamo la mappa La mappa per la gara La mappa per la gara Questa è Aspetta Toca Allora La mappa Questa è ragazzi iniziamo proprio benissimo uccidilo frank perchè è quello la che si merita ne voglio provare altre raga come ultimo vai prendi il power up bro va bene vabbè quinto posto ok prendiamo il power up ragazzi intanto stoppate il video e iscrivetevi al canale ma però la rosa mi sa che non voleva timare e mi ha ucciso ma nooo no mi sa che l'energetic è molto arrabbiato come mi ha preso Shelly? non so vabbè ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto lasciate like e iscrivetevi al canale ciao ciao